Presento le mie dimissioni. Gli esseri umani hanno una brutta abitudine di seguire persone di grande potere. Il potere corrompe, il potere assoluto corrompe in modo assoluto. Forse è solo uno che cerca di fare la cosa giusta. Un quarto alle cinque. Un quarto controllo. Per prendere il treno alle sei e ventidue che non passa mai in orario. Il mondo è stato così assorbito da ciò che lui sa fare che nessuno si è mai chiesto cosa avrebbe dovuto fare. Chi è in grado di governare, governi. Se non è in grado di governare, si fa il suo di te. Comincia così. La febbre, la rabbia, il senso di impotenza che rende gli uomini buoni, crudeli. Roma è sconvolta dall'inchiesta mafia capitale, ma il sindaco vola a vostro. Il funerale di Vittorio Casamonica svalordisce tutti e il sindaco non c'è. Non è presente nemmeno quando il governo deve decidere se commissariare Roma, né quando dà al prefetto Gabrielli poteri speciali per il giubileo. E poi, il giallo dell'ultimo piano. Sono giapponese. Io non ho invitato il sindaco Marino. Dimmi. Tu sanguini. No. Lo farai. Lo farai. Grazie a tutti.